Ace spray mousse nel lavandino, pulisce e igienizza! Sì, ha uno spruzzo preciso e non schizza! Certo che toglie anche le macchie di pizza! Candeggina più sgrassatore per la prima volta insieme in mousse è Ace spray mousse, igienizza, sgrassa e smacchia è il pulito ace, il vero multipulito e c'è un'altra novità Con nuova ace cremosa e profumata la casa profuma di pulito! Sì, sul bucato da bianco igiene, garantito!